Preghiere, canti, danze e tanti sorrisi per festeggiare i 25 anni di professione religiosa di Suor Fabio Lamaro. Una chiesa a Montemaggiore Belsito gremita di fedeli, di religiosi, di chi non ha fatto mancare la sua presenza in questo momento di festa così importante. Una messa vissuta con la gioia nel cuore, preseduta dal vicario generale della diocesi di Cefalù, Giuseppe Licciardi. Poi Suor Fabio ha rinnovato la professione religiosa nelle mani della superiore generale, madre Eleonora Francesca Longi. Originaria della Tanzania e appartenente alla congregazione delle suore collegine della Sagra Famiglia, Suor Fabio l'ha servito con gioia e entusiasmo alla comunità di Mistretta per ben 12 anni. A lei l'arciprete della città mastratina, Monsignor Michele Giordano, ha donato una targa che sottolinea quanto la presenza dei religiosi in ogni comunità porti gioia, quella gioia che scaturisce dall'esperienza intima di Dio. Un giorno speciale, 25 anni di vita religiosa, ma se c'è nel suo cuore oggi. C'è una gioia grande che non posso spiegare, se fosse il primo giorno della mia professione religiosa, ma come miracolo ho fatto 25 anni e così ringrazio il Signore di tutto ciò che mi ha fatto per questi 25 anni e ringraziare a tutti le mie maestre, il mio superiore, i miei genitori, tutta la mia famiglia e i miei amici che sono stati accanto a me a portarmi gli insegnamenti, come vivere la vita religiosa e aiutarmi in tutto ciò che ho avuto bisogno e la congregazione che continua a sostenermi. Bene, cosa vedi per il tuo futuro? Di continuare a servire il Signore con gioia, come ho fatto sempre. Grazie, Suor Fabiola. Grazie.